A pochi giorni dalla riapertura in presenza delle scuole superiori si rischia una nuova chiusura e un ritorno alla didattica a distanza. Infatti l'aumento della curva dei contagi in Campania ha consigliato gli addetti ai lavori a valutare questa ipotesi. A rendere nota questa che al momento è solo un'indiscrezione in quanto non c'è nulla di ufficiale è stato un take del Lanza lanciato questo pomeriggio in cui si legge l'unità di crisi della regione Campania monitorerà l'andamento dei contagi nelle scuole superiori che potrebbe portare a un nuovo stop della didattica in presenza dal 15 febbraio. Lo si apprende da fonti della regione. Le scuole superiori sono state riaperte in Campania in presenza al 50% ma c'è già un aumento dei contagi che verrà attentamente monitorato e potrebbe portare a un nuovo stop. Domani si farà un primo punto della situazione in una riunione dell'unità di crisi sulla scuola in attesa delle decisioni che potrebbe essere prese con una nuova ordinanza da parte del presidente Vincenzo De Luca. Dunque quelle che al momento sono solo indiscrezioni domani potrebbero trovare le prime conferme nel corso della consueta diretta che il presidente della Campania De Luca tiene su Facebook ogni venerdì per fare il punto della situazione sulla curva epidemiologica. Intanto la riapertura delle scuole in presenza e il relativo aumento dei contagi in età scolare, così come si era verificato all'inizio dell'anno scolastico con la messa in quarantena di intere classi e la necessità di effettuare tamponi di massa tra i ragazzi, porterà a riacuirsi delle polemiche che da mesi vedono contrapposti i genitori campani tra prolezioni in presenza e quelli pro-dad, preoccupati per il rischio che gli studenti possano portare il virus nelle case ed infettare così il resto del nucleo familiare. Soprattutto per il fatto che, a detta degli esperti, la variante inglese, che già da alcune settimane ha fatto la sua comparsa in Italia, risulta essere molto aggressiva nel diffondersi. E se all'interno delle scuole dirigenti ed insegnanti stanno facendo il possibile per attenersi ai protocolli del governo e della regione, cercando di rendere sicura la permanenza dei ragazzi nelle aule, tutto il contorno ha mostrato clamorose deficienze, a cominciare dal trasporto pubblico, per cui si continuano a registrare assembramenti.